gentili telespettatori buona giornata beh diciamo che il senso del ridicolo in politica è un po' labile abbiamo appena fatto un video parlando dell'assurdità del pd a roma che cosa ha fatto il pd a roma per risolvere l'emergenza rifiuti ha proposto e propone di non incartare i regali di netale e di non utilizzare i fiocchi non sto scherzando è tutto vero è quella nuova giunta comunale che ha proposto tramite il suo sindaco di premiare i netturbini se non si danno malati a natale è tutto vero a roma siamo al ridicolo al ridicolo dopo il vento del cambiamento grillino che lì è stato veramente un altro cinema adesso abbiamo la ridicolaggine del pd a gestire il comune di roma una roba sentitene qui qui ve ne racconto un'altra in italia entra chiunque documenti non documenti entra chiunque ma la lamorgese chiede all'unione europea di sanzionare orban e compagni anche questo non vi sembra qualcosa di estremamente estremamente ridicolo o no voi vi stupite ancora di quello che vi racconto sbarchi ingressi di clandestini le frontiere italiane non è che sono un colabrodo sono completamente aperte tu basta che arrivi e poi sei arrivato dici in che senso una volta che sei arrivato sei arrivato punto e basta ma la ministra ministra dell'interno luciana lamorgese a livello europeo chiede di multare penalizzare chi non accoglie il gruppo di visegrad chi non accoglie accoglie accoglienza accogliere diciamo che c'è un concetto in italia di accoglienza un po curioso secondo voi parliamoci chiaro mi ricordo che c'era un medico mandato all'hot spot di lampedusa per fare delle verifiche non so se chi l'aveva mandati draghi appena arrivato conte appena arrivato da fare un'ispezione e avevano detto questo medico sconcertato dice ma voi chiamate questa accoglienza accoglienza è l'ipocrisia più 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 bassa della nostra sinistra che parla di accoglienza lo spot di lampedusa sovraccarico non ha nulla a che vedere con l'accoglienza è un qualcosa di ecco la lamorgese va in europa a dire bisogna penalizzare chi non accoglie beh se dovessero accogliere come accoglie l'italia accoglienza allora il solito discorso che va avanti da dopo il salvini ministro dell'interno che faceva bene il suo lavoro parliamoci chiaro bisogna dire le cose come stanno da lì in poi hanno cercato giuseppe la lamorgese poi draghi con la lamorgese di nuovo la lamorgese una costante non come una costante matematica c'è sempre no ecco hanno cercato di convincere stupidamente i paesi europei a prendersi in carico i clandestini che fa entrare l'italia con una sorta di redistribuzione automatica cioè oggi ne entrano in italia mille io automaticamente ne mando 300 in germania 150 in grecia 25 in austria cioè con una redistribuzione in base alla forza economica di un paese no ad esempio la germania il paese più forte se li becca più degli altri automaticamente cioè arrivano in italia e il ministero dell'interno c'è beh allora 300 mandateli con un aero in germania 150 in francia automatica ma realmente voi credete che i paesi europei siano disposti a prendersi obbligatoriamente in maniera automatica clandestini che la sinistra italiana fa entrare in italia ma credete che questi questi stati siano così stupidi non ce n'è uno su 27 non ce n'è uno che abbia detto certo ma comincia subito domani a mandarmeli che stiamo negli aeroporti ad aspettare eh mandaceli abbiamo bisogno noi di clandestini perché noi non abbiamo disoccupazione non abbiamo problemi economiche mandaceli nessuno allora poi sono partiti con i ricollocamenti volontari che poi ricollo ricollocamento ricollocamento vuol dire che collochi una seconda volta quindi collocamenti volontari non ricollocamenti volontari no vi ricordate quel patto che aveva fatto la lamorgese con conte ma il patto di malta no c'erano quattro paesi che hanno detto vabbè senti qualche volta se mi telefoni ti posso accettare una due persone però non prendo impegni erano tornati conte la lamorgese trionfale in italia dicendo noi altro che salvini noi siamo andati a fare il patto di malta redistribuzione volontaria ovviamente inesistente chiaramente i paesi gli altri paesi invitati a questo patto di malta hanno detto tu digli di sì no vai lì gli dici di sì e poi ma andate a quel paese no ridistribuzione volontaria intanto i l'europa parlava di come si dice di perso il filo parlare di ste cose ridistribuzione volontaria vabbè ho perso il filo comunque adesso di nuovo la lamorgese chiede che ci siano delle delle punizioni delle punizioni sui paesi che non intendono su base volontaria partecipare a questa cosa pensata dalla lamorgese vecchia già dal giuseppi due hanno provato con questa fesseria di convincere dei paesi a prendersi dei clandestini dall'italia ecco cosa volevo dire i 27 paesi non si prendono neanche quelli veri i veri rifugiati politici quelli che scappano dalla guerra quelli certificati l'europa non vuole neanche quelli ogni tanto gli dicono all'italia vabbè vai mandamene due però basta adesso eh cioè non rompete più le balle ecco i paesi europei che fanno fatica a prendersi uno due veri veri fuggitivi da guerre secondo voi si prendono i clandestini che arrivano coi barconi in italia è assolutamente assurdo siamo al ridicolo cioè pensare che i paesi europei prendano i clandestini automaticamente che arrivano in italia è pura cretineria non lo non ha senso mi capite che non ha senso andiamo avanti al prossimo video arrivederci a tutti